Abbiamo perso meritatamente contro una squadra che ha giocato meglio di noi. È stata sicuramente la nostra peggiore partita e la nostra prima vera sconfitta perché abbiamo meritato di perdere non giocando alla nostra altezza. Secondo me è la poca qualità e il poco ritmo che abbiamo messo in campo noi che ci ha messo in difficoltà. Poi bisogna dare i meriti sicuramente ai nostri avversari perché hanno fatto meglio di noi. Difficile per me dare spiegazioni perché ero sicurissimo della settimana. Anzi, chi ha visto i nostri allenamenti in settimana nessuno poteva immaginare o aspettarsi una prestazione del genere. Purtroppo è stata una nostra serata no, storta, in tutto per tutto e quindi dobbiamo archiviarla e pensare invece a rimettere in campo le prestazioni all'altezza delle nostre qualità. No, assolutamente no. Abbiamo fatto tanto per tornare in Europa, tanto per arrivare a questo punto. È un obiettivo importante. Ho la cosa anche giusta, forte, completa per gestire anche i doppi impegni e chiaramente siamo invece molto contenti di essere ancora in Europa e vogliamo andare avanti sapendo che incontreremo una squadra che sta dominando il campionato serbo e quindi difficoltà ci saranno ma avremo anche una grande voglia di reazione dopo una partita così al di sotto delle nostre possibilità come quelle di stasera. La classifica l'abbiamo sempre guardata poco fino ad oggi lo faremo anche domani. Sinceramente adesso pensiamo alla prossima partita poi penseremo chiaramente al Deby perché è una partita molto importante questo lo sappiamo ma adesso pensiamo al Stella Rosso.